Grazie, buonasera a tutti, grazie per la presenza, vi rinnovo gli auguri di buone feste da parte dell'Avvistazione Comunale, vi ringrazio per la presenza di questa sera, vi ricordo di indossare la mascherina FFP2 come il nuovo decreto vuole e niente, io volevo ringraziare l'artista Michele Di Toro che ci ha onorato della sua presenza questa sera qui a Casoli è un artista vicino a noi come paese, è un artista del luogo ma è conosciuto in tutto il mondo quindi siamo felici di riospitarlo perché è già stato a Casoli altre volte e quindi adesso presenterà l'artista Michele Di Toro, la pianista Orietta Cipriani Signori e signori buonasera e benvenuti al concerto del pianista Michele Di Toro, una breve presentazione non ha programma e non ha genere il concerto di Di Toro, è piuttosto un viaggio senza rotta dalla musica classica al jazz, dal blues al ragtime, dalla musica etnica a quella pop con una forte componente improvvisativa. Grazie ad abilità tecniche e ritmiche straordinarie Di Toro riesce a spaziare nei vari generi musicali, intrecciandoli, mixandoli e creando funambolici percorsi sulla tastiera. Apprezzatissimo dalla critica e dal pubblico è considerato uno dei più grandi pianisti italiani. Michele raramente inizia un concerto con una scaletta definita l'energia del pubblico, la location, il pianoforte gli indicano la strada da percorrere ed è sempre una strada piena di sorprese, imprevedibile e straordinaria. A voi Michele Di Toro credo gentilmente di spegnere il cellulare. Grazie. Applausi 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.